Per me è troppo a partire lo Catelli, non ci vincere lo docchio in questa situazione, c'è il paleschegna, non è di voi, viste il gol! E' un'altra parte inondale, provato alla schegna, occhio al suo movimento, perciò la sua parte, guarda, 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 guarda! Guarda, guarda, guarda! Davide! Grazie a tutti i amici! Ah eh 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 Ale Ale Ale! Ale Ale Ale! Ale Ale Ale! Ale Ale Ale! Ale... E' stato però interessante il comune di Politano. Adesso è venuto a tutti. ... per andare ad attaccare quello spazio... ... e poi la faccia. Politano va per clicare. E' come la tocca! E' come la tocca! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!